A Belpasso iniziati i lavori su via Svezia nel villaggio del Pino, in quella che è l'opera di riqualificazione dei quartieri. Saranno asfaltati 350 metri di strada e si completa così l'urbanizzazione delle aree periferiche. Nel cronoprogramma elettorale avevamo scritto di riuscire ad impegnare 250 mila euro all'anno, ha spiegato il primo cittadino Carlo Caputo, nei quartieri periferici. Questo impegno lo stiamo mantenendo. Rispetto alle promesse facili noi abbiamo deciso fin dall'inizio di indicare quello che realmente si poteva fare.